Siamo qui con The Great Show per parlare di mercato Tu sai che c'è la Coppa d'Africa, no? E Salah parte, sta via un mese, un mese e mezzo Poi speriamo che la sua squadra d'Egitto venga fatta fuori subito In modo che così torna Però nel frattempo serve un rincalzo Questo rincalzo potrebbe essere il Papi Gomez Un giocatore molto interessante, ormai maturo, ha 28 anni Baricentro basso, nano, quindi movenze molto scattante Pigmao, eccetera Gioca sia a sinistra sia a destra Ma talvolta può giocare anche al centro E lui sarebbe l'attaccante ideale per le spallitte Cosa ne pensi tu? Beh, io... Papu Gomez Insomma, ma che cazzo è questo? Si, si, mazza, non lo so Dove gioca Papu Gomez? Atalanta Bravo, vedi che sei Potrebbe essere ideale, no? Potrebbe essere ideale, sì Costo un po' di bene Però Però Ti pagheresti 9 milioni in giocatori che poi al rientro di sala dovresti tenere in panchina Beh, però io penso che a gennaio se noi riusciamo a dar via anche per pochi spicci il pacco di turbe Poi paghi un po' meno questo corso Rientri, potresti fare un cambio? Magari per Papa d'Atalanta Potresti fare un cambio alla pari? A Gasparini mi piace, mi piace, mi piace Magari se lo prende, 2 milioni, uno scavico, una cosetta No, ma un cambio alla pari no, non ci vale Non penso Forse una volta Una volta paga pure tre volte tanto Perché abbiamo pagato noi Cosa ne pensate voi? Voi cosa ne pensate?